C'è chi è serio e c'è chi non è serio. Resta comunque una certezza. I deputati del PD stanno utilizzando un'opportunità, quella di fare chiarezza sulle prestazioni sanitarie dei frontalieri per fare propaganda, togliendo invece alla gente la chiarezza su quello che saranno le tasse che pagheranno i nostri frontalieri. Abbiamo chiesto più volte al governo che facesse chiarezza su quello che sono gli accordi sottoscritti con la Confederazione Elvetica. A tutt'oggi questi accordi restano segreti. Continuiamo a pressare ma non vengono messi a conoscenza. Lì dentro ci sta scritto che i frontalieri pagheranno più tasse di quelle che pagano oggi e alla fine lavorare oltre frontiera sarà più costoso e penalizzante che lavorare sul territorio italiano. Su queste cose bisogna fare chiarezza. Su queste cose vogliamo che il governo dia una risposta chiara e definitiva. Altrimenti significa illudere la gente e prendere per il naso i nostri lavoratori.